Criminalità in Italia, cosa dicono i numeri sui furti? L'Italia è un paese ad alto rischio di crimini? Difficile rispondere. Se andiamo ad analizzare le fonti ufficiali, i crimini non mancano di certo, ma il trend sembra in miglioramento rispetto al passato. Più recente, ovvero da quando esistono statistiche affidabili. La valutazione è ancora più complessa se consideriamo che la parola crimine può essere declinata in numerose varianti, dai crimini più efferati, come gli omicidi, a quelli più comuni, come i furti in casa. Il quadro dunque è articolato e per essere fotografato a dovere è necessario prendere in esame più fattori in stretto rapporto fra loro. Scopo di questo articolo è fornire una panoramica aggiornata sulla base dell'effettivo numero di denunce registrate negli ultimi anni. Le fonti principali da cui abbiamo attinto sono il Dipartimento di Pubblica Sicurezza, Ministero dell'Interno, e l'Istituto Nazionale. Di statistica, i quali ogni anno diffondono una serie di statistiche dettagliate, dalle statistiche sulle rapine in Italia alle statistiche sui furti in casa. Vediamo dunque qual è la situazione attuale rispetto al passato. Milano, Rimini e Firenze, le città con più crimini. L'Italia è un paese variegato, in cui convivono città piccole e metropoli di milioni di abitanti, a volte a poca distanza fra loro. Ogni agglomerato urbano è vittima di crimini peculiari, che possono cambiare di molto le classifiche. Per parlare dell'argomento crimine con cognizione di causa, dunque, è opportuno fornire innanzitutto un elenco dei principali reati. Denunciati nelle 106 province incluse nella lista, la quasi totalità delle province italiane. Tali reati si dividono in 18 tipologie di crimine. Omicidi volontari consumati, differente dal tentato omicidio, infanticidi tentati omicidi furti con strappo furti con destrezza furti. Nelle abitazioni furti in esercizi commerciali furti di autovetture rapine estorsioni usura associazione per delinquere associazione di stampo mafioso riciclaggio e impiego di denaro truffe e frodi informatiche incendi stupefacenti violenze sessuali se calcoliamo. Il numero totale di crimini in rapporto agli abitanti. Scopriremo che la città più criminosa è Milano. 7.017 denunce ogni 100 minore di dot maggiore di 000 abitanti, seguita da Rimini. 6.430 denunce ogni 100.000 abitanti. E da Firenze. 6.252 denunce. Al quarto posto Bologna con 6.233 denunce ogni 100.000 abitanti. Selezionando un reato particolare, la classifica può tuttavia mutare notevolmente. Al primo posto per omicidi volontari portati a termine, ad esempio, troviamo Vibo Valencia, 6.2 ogni 100.000 abitanti, mentre per quanto riguarda i furti con strappo, il classico scippo della borsetta, il primato va a Napoli, 77.8 ogni 100.000 abitanti. Per i furti in abitazioni il primato è invece di Asti, con una media di 655 denunce ogni 100.000 abitanti. E ancora, le rapine sono più frequenti a Napoli, 157,5 denunce ogni 100.000 abitanti, le truffe e frodi informatiche si verificano più spesso a Trieste, 577,4 ogni 100.000 abitanti, e così via. Sembra proprio che ogni città sia specializzata in qualche tipo di reato, ma è chiaro che è difficile trarre conclusioni perché tra i fattori in gioco ci sono anche l'omertà dei cittadini nel denunciare determinate tipologie di crimine, l'efficienza dei sistemi. Di allarme impiegati, la capillarità delle forze di pulizia e delle forze dell'ordine in generale sul territorio. Ogni conclusione, dunque, dovrebbe essere sempre contestualizzata alla situazione locale. Il trend di omicidi, furti e rapine dal 2012 al 2018. Per comprendere meglio lo scenario della criminalità in Italia, possiamo fare un passo avanti ulteriore e dare uno sguardo al trend di reati dal 2012 al 2018. Al netto di quanto viene diffuso attraverso i masse media, come è cambiato in questo lasso di tempo il crimine? Potrebbe sorprendere scoprire che i dati parlano di una diminuzione per tutti e tre i maggiori reati, ovvero omicidi, furti e rapine. Nella fattispecie, gli omicidi sono scesi da 555 nel 2012 a 319 e nel 2018 i furti sono scesi da 1477.000 circa nel 2012 a 1189.000 nel 2018 le rapine sono scese da 41.281 nel 2012 a 28.390 nel 2018 passi avanti da non sottovalutare, che lasciano sperare. In un futuro, ulteriore miglioramento delle condizioni di sicurezza in Italia, a nord come al centro, nel sud come sulle isole maggiori. I dati ISTAT dal 2008 al 2017 sulla percentuale di crimini. I dati esposti finora, presi in prestito, lo ricordiamo, dalle statistiche del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, Ministero del Interno, rappresentano solo uno dei tanti punti di osservazione. Una seconda importante e autorevole fonte, vale a dire l'ISTAT, sembra confermare alcuni trend e smentirne altri. Qui il periodo considerato va dal 2008 al 2017, e i risultati sono solo in parte sovrapponibili a quelli del Dipartimento di Pubblica Sicurezza. Secondo l'Istituto Nazionale di Statistica, infatti, gli omicidi volontari sono diminuiti dello 0,2%, mentre i furti, al contrario, di quanto riporta il Dipartimento, sono aumentati di ben il 63%. Anche le rapine sembrano aumentate, seppure di poco, 2,9%. A essere concorde è in ogni caso il trend globale, che nel complesso vede una riduzione dei crimini del 22,7%. Il bilancio finale sulla criminalità in Italia. Trarre un bilancio non è facile, perché il mondo contemporaneo cambia alla velocità della luce, e la sola evoluzione delle tecnologie informatiche, giusto per citare un ambito tra i più significativi, rende obsolete alcune forme di crimine portandone alla luce altre prima sconosciute. Non è detto quindi che un domani emergano reati fino ad oggi mai nemmeno esistiti. Il cittadino e in particolare il proprietario di un immobile è tenuto a seguire i trend e adottare le giuste contromisure, abbassare. La guardia potrebbe esporre a pericoli di cui si ignorava la portata, depistati da canali di informazione che spesso pongono l'accento su falsi rischi. Meglio sempre confrontare più fonti e più statistiche, come abbiamo visto dal paragone tra quanto affermato dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza e dall'Istat. Per il resto, la prevenzione rimane e rimarrà in eterno la prima e più efficace arma di difesa, quantomeno contro alcune tipologie di reato come i furti e le rapine in casa, ma anche gli incendi e i tentati omicidi.